Siamo con Massimo Perari, figlio d'arte. Giovanni Perari è stato sindaco di Perugia, un sindaco importante del Partito Socialista Italiano. Oggi lui si candida alle regionali per Forza Italia. Ecco, perché questa scelta? Perché c'è bisogno di un massimo Perari nella politica umana? Per dirlo in breve, dopo Perugia, l'Umbria, quello che è successo con le elezioni di Romizia a Perugia, spero che succeda anche alle elezioni regionali. L'Umbria è una regione ormai soffocata dalla burocrazia, dagli enti pubblici. Tutto soffoca la libera iniziativa e è una regione che ha bisogno di essere liberata. Siamo in presenza di una gigantesca forma di clientelismo. Ti do il posto di lavoro pubblico che oggi non può più essere dato in cambio del voto. È una gigantesca, a mio giudizio, scambio, appunto, voto di scambio. Dobbiamo liberare l'Umbria perché è una regione che può farcela, potrebbe vivere valorizzando i suoi beni culturali, l'agricoltura, rivitalizzando le aziende che pure sono state importanti. Pensiamo a Perugia, l'LS, la Perugina, che non ci sono più, sono state massacrate da questa asfissiante burocrazia. Gli enti pubblici sono sull'orlo del fallimento e quindi dopo Perugia l'Umbria. Ecco, quali sono le idee forza di massimo operare per l'Umbria? Le idee forza intanto l'Umbria deve puntare sul turismo e il sindaco Ricci su questo ha tutte le carte in regola, tant'è che Assisi in questi ultimi anni ha incrementato molto turismo, ma soprattutto ha fatto sì che questi turisti non stessero soltanto un giorno ad Assisi e poi ripartono, ma in qualche modo ha creato dei circuiti che hanno dato benessere e ricchezza alla città. Ha abbassato le tariffe, che sono le nostre ricette, quindi incrementare molto il turismo, la internazionalizzazione delle imprese, che sono una salvezza grazie anche al fatto che Assisi e Perugia, anche la stessa Umbria, hanno una grande internazionalità, si possono aprire grandi spazi di diplomazia e quindi le imprese possono tornare a diventare importanti grazie a questo. L'abbassamento delle tariffe e il contenimento dei pubblici dipendenti, ovviamente, meno dirigenti, meno posizioni organizzative. Questo Ricci lo ha realizzato nel comune di Assisi e è la ricetta per l'Umbria. Il candidato alle regionali Massimo Perari sta con Forza Italia, Forza Italia sta all'interno della coalizione del centrodestra che ha come referente, come governatore per l'Umbria, Ricci. Ecco, come si può sconfiggere la sinistra? Quali sono le vostre del centrodestra le ricette per sconfiggere la sinistra, oltre a quelle che lei ha elencato a poc'anzi? Intanto il primo punto era mettere insieme tutte le forze politiche del centrodestra e non solo, perché questa è una coalizione molto ampia. Ci sono ben tre liste civiche che appoggiano la candidatura di Ricci, quindi va oltre il centrodestra, diciamo, classico, ma coinvolge una grande parte della società civile. Questo era il primo punto. Il secondo punto era avere un programma di poche idee, ma ovviamente molto chiare, che ho elencato prima. Quindi sviluppo del turismo, sviluppo dell'industria. Quindi rivitalizzare le antiche aziende perugine, la piccola anche azienda, l'agricoltura, turismo, lo sviluppo delle infrastrutture, quindi sviluppare l'aeroporto di Sant'Egidio e collegare Perugia, abbiamo detto, Perugia e Lumbria attraverso una freccia d'argento al resto del paese. Quindi infrastrutture, modernizzazione appunto delle infrastrutture, digitalizzazione degli enti pubblici e meno dirigenti, che assorbono meno dirigenti e meno posizioni organizzative. Se noi facciamo un conto in provincia, faccio l'esempio della provincia, abbiamo 37 dirigenti ad uno stipendio medio di 120 mila euro l'anno, sono 5-6 milioni d'euro. 128 posizioni organizzative, che sarebbero mini dirigenti, ne basterebbero 2-3 contro i 128 posizioni organizzative e i dirigenti. Salveremo i dipendenti della provincia che oggi sono a rischio licenziamento, perché giustamente è bene salvaguardare le famiglie con i figli e con i mutui e ovviamente questi non servono a niente, andremo ad un alleggerimento dei costi della pubblica amministrazione. E questo va fatto in regione, in provincia e in tutti i comuni. L'ultima domanda. A chi fortemente deluso della politica non volesse andare a votare, cosa si sente di dire? È una bella domanda e la ringrazio perché la risposta a questa politica che in generale è un po' destra e sinistra, non è più all'altezza della situazione, non è il non voto, non è né il non voto né il votare liste così un po' estremiste come possono essere i grillini, ma è necessario votare l'alternativa. L'alternativa è il presidente della regione Ricci, altrimenti per questa regione non ci sarà chance, dovremo unicamente sperare in una nuova macro regione del centro Italia dove l'Umbria può ovviamente confondersi e rinasce, quindi o Ricci o una macro regione più grande dove Perugia e l'Umbria possano ritrovare la loro in qualche modo identità, la loro dinamicità che è insita nelle nostre famiglie, altrimenti purtroppo non c'è futuro perché lo schema economico della sinistra postcomunista che è tutta basata sulla pubblica amministrazione non funziona più, oggi si producono solo debiti, guardate il comune, guardate la provincia, guardate le società partecipate, Geseno, APM, non c'è eccezione, guardate la regione, oggi la pubblica amministrazione per come è impostata produce solo e esclusivamente debiti, è necessario dare fiato alla libera iniziativa. Grazie a tutti!